Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la vita straordinaria di Elvis Presley. Elvis è stato un pioniere e anche il re di quello che noi chiamiamo rock'n'roll, ovvero una leggenda immortale della musica e del cinema, idolo incontrastato delle masse. Ancora oggi non solo influenza quello che è il panorama musicale e pop, ma fa parlare di sé. Infatti ancora ogni tanto qualcuno se ne esce e dice, ehi Elvis è vivo! Queste sono pazzi riservate ovviamente a chi è stato un divo. Era dotato di una bellezza molto raffinata e anche però un talento eccezionale. Aveva una voce molto potente, un tono e un carisma veramente unico nel suo genere. Ha letteralmente inventato la nostra concezione di rock'n'roll, perché ha combinato elementi di musica country, rhythm and blues e gospel, dando così vita ad un suono distintivo che ha trasformato per sempre la musica popolare. Ma attenzione, Elvis non è stato solo un musicista, ma anche un attore. Come cantante si stima che abbia venduto 500 milioni di copie di dischi. Mentre come attore sappiamo che ha recitato in 33 film diversi, che da soli hanno risollevato la crisi dei botteghini degli anni 50, che era ovviamente dovuta all'avvento della televisione. Pensate addirittura che in una classifica dedicata ai guadagni post-mortem, Elvis stacca Marilyn Monroe, Bob Marley e persino John Lennon. Solo nel 2001 Elvis Presley avrebbe guadagnato una cosa come 37 milioni di dollari. Di lui Bob Dylan dice una cosa bellissima. La prima volta che ascoltai Elvis mi fece sentire come se finalmente fossi riuscito ad evadere da una prigione. Ma la cosa veramente curiosa è che in vita mia non ero mai stato messo in una prigione. E sempre in un'altra occasione Bob Dylan disse Siamo tutti qui grazie a Elvis Presley. Io lo imito, tutti voi lo imitate. C'è però anche un tratto oscuro della vita di Elvis. In effetti lui non fu mai felice, ovvero forse qualche breve periodo della sua vita, quando era bambino, quando conobbe Priscilla, che poi sarebbe diventata sua moglie. Elvis amava soltanto esibirsi, viveva per esprimersi con la sua musica, ma non ha mai retto quella che era la fama, anzi ne è rimasto vittima. E forse ancora oggi la sua delicatezza d'animo, la sua infinita debolezza e le sue paure lo perseguitano. È infatti quasi come se la sua anima non potesse mai riposare in pace. Accade per esempio quando qualcuno afferma che sia ancora vivo e quando fiumi di visitatori percorrono le stanze della sua villa, evitando però la camera da letto, perché si dice che ci sia lui, vecchio, in carne ed ossa, imprigionato nella sua solitudine. Quindi quanto può essere alto il prezzo della celebrità? Elvis Presley sembra condannato a pagare in eterno la sua indiscusta straordinaria età. Ma ora ripercorriamo la sua vita e vediamo cosa ha fatto e come l'ha fatto. 8 gennaio 1935. Elvis Aaron Presley nasce a Tupelo, in Mississippi, da Vernon e Gladys Presley. Trascorre quella che è un'infanzia molto modesta. I genitori sono molto poveri, il padre svolge diversi lavori manuali per mantenere la famiglia e la madre si occupa della casa e del figlio. Siamo nella USA degli anni 30, quindi la società è fortemente ancorata ai ruoli di genere tradizionali. Per questo le donne sono solo ed esclusivamente casalinghe e madri, con pochissime opportunità di carriera e di sviluppo personale, cose che oggi sono impensabili, eppure in quegli anni era così, anzi non poco tempo fa. Elvis è molto legato alla mamma e chiaramente soffrirà molto quando ella morirà, lo vedremo in seguito. La famiglia è una famiglia religiosa che frequenta la classica chiesa evangelica ed è proprio in questo contesto che Elvis, bambino, entra in contatto con il genere gospel che ovviamente influenzerà la sua carriera e la sua musica in futuro. Ed è proprio qui, in questi ambienti, che Elvis scopre la sua passione per la musica. È importante dire che nonostante la povertà, i genitori però sono molto affettuosi e molto protettivi con Elvis. 8 gennaio 1943. Elvis Presley ha 8 anni e riceve come regalo la sua prima chitarra classica. La leggenda dice che lui desiderasse tanto una bicicletta, ma i genitori non potevano permettersela, quindi cosa fanno? Ripiegarono sulla chitarra, spendendo poco più di 10 dollari. Ecco, il regalo della vita si direbbe, no? Meglio una bicicletta o meglio una chitarra? Beh, forse in questo caso era molto meglio regalargli una chitarra. Ed ecco quindi che questa rudimentale chitarra acustica si rivelerà essere il punto di partenza della carriera musicale di Elvis Presley. Lui imparerà a suonarla da autodidatta. È il 1948. La famiglia Presley si trasferisce a Memphis in Tennessee, in cerca chiaramente di migliorare le condizioni di vita, le condizioni lavorative. Nel nuovo contesto di vita ci sono, soprattutto per Elvis, maggiori stimoli culturali. Infatti Elvis frequenta la Umes High School e partecipa a molte recite e competizioni musicali locali. Diciamo un ambiente più stimolante rispetto a quello da cui proveniva. È il 1954, Elvis ha 19 anni e registra il suo primo singolo, That's All Right, nello studio Sun Records a Memphis. Ecco, come siamo arrivati da niente a registrare il primo brano? Chiaramente c'è stata tutta una serie di improvvisazioni per strada, partecipazione a concorsi e una continua ricerca del suono da parte di Elvis. Questo brano ottenne subito un buon successo, quindi la carriera si è lanciata da questo momento. Elvis non è proprio un artista qualunque, non ha solo quello che possiamo definire talento, è anche l'unico bianco a cantare con una voce da nero e ciò non sfugge a quelli che sono gli esperti di settore. Infatti il 10 luglio non tarda a firmare il suo primo contratto discografico con la Sun Records. Nel 1955 entra in gioco un personaggio particolare, ovvero il colonnello Tom Parker, un manager olandese-americano che cerca in tutti i modi di diventare l'agente di Elvis e ci riesce. Si potrebbe aprire un video solo su questo personaggio perché c'è tanto da dire su di lui, un personaggio misterioso, carismatico e soprattutto che ha avuto un ruolo particolare nella vita di Elvis. Anzi, possiamo proprio dire che è stato un personaggio chiave nella sua carriera. Riesce a plasmare il suo successo e la sua immagine. Lo seguirà da quel momento fino alla morte, portandolo ad un successo straordinario ed unico. C'è stata ovviamente qualche critica. La correttezza di Parker è sempre stata ambigua. Si è sospettato sempre che facesse più i propri interessi che quelle di Elvis. Pare addirittura che sia arrivato a un compenso percentuale del 50%, considerando che lo standard era tra il 10 e il 20. In ogni caso, lui prende molto a cuore Elvis e fa in modo che ottenesse contratti sempre molto vantaggiosi, anche alla fine della sua carriera. È il 1956, è l'anno di Love Me Tender, l'album debutto di Elvis, che diventa un grandissimo successo commerciale. E arriva il primo film, Fratelli Rivali. Tra il 1956 e il 1958, Elvis diventa una superstar internazionale. Lui ha uno stile tutto suo di occupare il palco, il modo in cui balla, di come modula la voce e le esibizioni che lui definisce provocanti lo portano a essere chiamato addirittura Elvis the pelvis, proprio per il caratteristico movimento di bacino, molto sensuale, che manda in delirio le ragazze che guardano le esibizioni. Ovviamente queste movenze sensuali, siamo negli anni 50, vengono molto criticate dalla fazione conservatrice statunitense, in particolare dalla chiesa, che pare averlo accusato di essere un diabolico sacerdote del sesso. Ecco, vale la pena fare una piccolissima digressione sul rock'n'roll. Ecco, Elvis ha un nuovo modo di rivedere la musica, appunto impazzendo sul palco e ovviamente trasmettendo ribellione. E i giovani impazziscono per lui. Lui cambia il modo di vedere la musica che prima era più legata alle tradizioni al country. Qua siamo negli anni 50, ci deve essere qualcosa di nuovo, qualcosa di agitato. Ovviamente i leader religiosi dei gruppi conservatori ritengono che il rock'n'roll sia una forma di musica immorale e ovviamente peccaminosa, che possa influenzare negativamente i giovani e che possa anche provocare comportamenti ribelli o disordinati, ovviamente. E chiaramente Elvis, con questi movimenti provocanti, visti come osceni e indecenti, non fa altro che aumentare questa idea in queste persone. E ci saranno vere e proprie proteste, boicottaggi, gensure contro la musica rock'n'roll. Ovviamente da parte sempre di genitori, autorità, chiese varie. E nonostante tutto questo, Elvis se ne frega e va avanti. E l'idolo delle folle fa impazzire le donne che farebbero di tutto per lui. La sua musica impazza in ogni dove. Lui porta sul palco quello che è un sound innovativo, straordinario. È impossibile non amarlo. Questo mix di gospel, afro, rock, rhythm and blues e musica leggera, insomma, è un qualcosa che non si era mai sentito. un qualcosa di nuovo da ascoltare e da vedere. È il 1958. Elvis ha 23 anni. La madre, Gladys, ha 42 anni. Ricordiamoci per un attimo quest'età. Ecco, purtroppo, in quest'anno, Gladys muore. Per Elvis sarà un fatto devastante. Era infatti morbosamente legato a sua madre. E la sua morte lo colpirà profondamente, influenzando la sua salute emotiva e fisica. Nello stesso anno, il padre di Elvis si risposa. Anche questo contribuisce a portare molto disagio e tristezza nello stato d'adimo di Elvis. Siamo negli anni della guerra di Corea. È necessaria una forza militare numerosa e preparata. Oltre ai giovani coscritti, quelli del servizio militare, c'è l'arruolamento volontario, in cui ricorrono molti giovani. La coscrizione costringe giovani maschi ad allontanarsi per molto tempo da famiglie, studi, lavoro e case. In America non si scappa, la nazione va servita e viene prima di tutto. Nello stesso anno, il 24 marzo, Elvis si arruola volontario nell'esercito degli Stati Uniti e trascorre due anni in servizio attivo in Germania. Questa scelta è vista positivamente da molti americani, contribuisce a rafforzare la sua immagine come persona patriottica e come persona responsabile. E forse compenserà quell'aurea negativa che la fazione statunitense conservatrice aveva criticato in precedenza per la sua musica. Il giovane però, affamato di palcoscenico e di fan, comincia a accusare la lontananza. Quindi, mentre la sua assenza non fa altro che aumentare la sua notorietà, lui soffre, accusa, cambia modo di vivere, diventa aggressivo, diventa triste, cupo e arrogante. Pare che inizia a fare un uso spropositato di droghe e soprattutto che inizia a dedicarsi al sesso smodato e a continue orge. Però il 5 marzo 1960 ottiene un congedo con onore e quindi ritorna sulle scene. Il 26 maggio dello stesso anno duetterà con Frank Sinatra nello speciale televisivo Welcome Home Elvis, trasmesso come un episodio speciale del famoso programma televisivo The Frank Sinatra Timex Show. In quegli anni Frank Sinatra era molto famoso, era stimato, era una celebrità consolidata, aveva registrato numerosi successi musicali, incluso My Way, e ha vinto diversi premi, tra cui parecchi Grammy Awards. Il programma televisivo The Frank Sinatra Timex Show è un evento di grande rilevanza, seguito da moltissime persone. Questa puntata speciale viene appunto organizzata per accogliere Elvis dopo il rientro al servizio militare e duettano in brani come Witchcraft o Love Me Tender. Si tratta di un momento che possiamo definire memorabile per la musica, un evento epocale. Sinatra ed Elvis sono insieme sullo stesso palco e possiamo dire che sarà il riconoscimento ufficiale della popolarità di Elvis. È il primo maggio 1967. Elvis si sposa, innamoratissimo, e si sposa con Anne Belye a Las Vegas, precisamente nell'Aladdin Hotel. Sebbene la cerimonia sia privata e gli invitati siano pochi, si fa per dire relativamente alla personalità di cui stiamo parlando, quindi si stima nemmeno 200 persone, è una delle cerimonie di nozze più attese mediaticamente dell'epoca. Come accade oggi, radio e tv diffondono ogni dettaglio relativo all'evento e soddisfano l'interesse di milioni di fan. È il 1968. Dopo il suo ritorno alla musica, Elvis tiene un famoso special televisivo chiamato Elvis o NBC Comeback Special. Anche questo è un momento importante perché segna la rinascita della sua carriera, riconquista quello status di icona della musica. Nello stesso anno, il primo febbraio, nasce sua figlia Lisa Mary che sposerà poi nel 94 Michael Jackson. Ecco, Elvis in questo periodo sembra felice. Tuttavia, il suo stile di vita però peggiora di giorno in giorno. Inizia a manifestare problemi di salute legati al consumo spropositato di farmaci. Aveva una dipendenza da ansiolitici, tranquillanti e antidepressivi. Tutto questo ha un impatto chiaramente negativo sulla sua salute ma anche su quelle che sono poi le sue esibizioni. È il 1972. Elvis ha 37 anni e non può andare avanti con questa vita quindi si separa da sua moglie. E qua inizia di nuovo un periodo down per Elvis. Nel 73 cercando di rilanciare sempre la sua carriera tiene il suo primo concerto live via satellite che è stato visto da un miliardo di spettatori in 40 differenti paesi. Questo evento è stato fatto anche per dimostrare che Elvis aveva un'indole filantropica infatti era un evento di beneficenza e per raccogliere fondi per l'associazione benefica a cui lì Cancer Benefit nata in memoria del compositore hawaiano qui lì morto di cancro all'età di 34 anni. Però come sappiamo Elvis ha appena divorziato. Da questo momento si isola non esce più di casa se non per fare i concerti. Ha poi delle fobie di essere rapito di essere stuprato di essere ucciso ed è anche molto superstizioso tanto da convincersi che morirà nella stessa età della madre 42 anni come abbiamo detto prima. quindi cosa fa in questo vortice di problemi? Aumenta l'uso di farmaci e droghe. E qui anche il suo aspetto fisico comincia a cambiare con lui continua a introdurre continuamente pillole tranquillanti mischiate enorme quantità di cibo e alcol e diventa un uomo lento goffo e obeso. Elvis De Pelvis si cancella non c'è più niente di lui rimarrà solo. Il successo e la celebrità fanno appugni con lo stato d'animo di Elvis gli manca un legame reale e significativo con le persone è costretto a sostenere un successo di pubblico enorme sebbene comunque ne soffra e iniziano anche in tutto questo alcuni problemi finanziari dovuti a decisioni errate e investimenti sbagliati. 12 febbraio 26 giugno 1977 Elvis ha 42 anni è in tournée. Elvis si esibisce in diverse città negli Stati Uniti tra cui Indianapolis Cincinnati e Rapid City. Il 16 agosto 1977 il corpo di Elvis viene ritrovato cadavere a Graceland la sua lussuosa residenza a Memphis nel Tennessee. Aveva 42 anni proprio come aveva predetto proprio come è morta sua mamma. L'autopsia rivelerà che nel suo corpo erano presenti 12 sostanze tossiche differenti. L'eredità di Elvis continuerà però a vivere nel cuore dei fan e la sua musica e il suo impatto sull'industria musicale sono ovviamente rimasti una fonte di isperazione per tante generazioni successive. Elvis è stato un artista indimenticabile cantante musicista e attore con uno stile musicale innovativo con un carisma magnetico e una presenza scenica unica. Aveva inoltre una capacità di coinvolgere il pubblico e di creare quella connessione emotiva che mai nessuno sarebbe stato in grado di ripetere. Il suo modo di muoversi il suo ancheggiare ha rivoluzionato l'epoca. Elvis ha avuto un successo commerciale internazionale sancito da veri e propri record di vendite ed è sempre rimasto umile strano a pensarsi ma sì lo è sempre stato al suo pubblico non ha mai mancato di dire grazie. Il suo contributo alla cultura giovanile è irripetibile l'ha cambiato per sempre diventando un simbolo della ribellione giovanile forse inconsapevolmente e della libertà di espressione rompendo quegli stereotipi un po' bigotti che erano presenti all'epoca. Ecco cosa ci portiamo a casa da questa storia? Elvis era un talento sì ma con un'ossessione esibirsi lui viveva per l'esibizione lui voleva essere sul palco e questa cosa l'ha divorato l'ha mangiato perché non aveva gli strumenti per gestirla ovviamente aveva un satellite di persone che cercavano di approfittarsi di lui perché lui fondamentalmente aveva solo il suo pubblico non gli interessava nient'altro non gli interessavano i soldi e questo l'ha portato in un vortice malato nocivo tossico che ha pagato a caro prezzo con la sua vita lui non ha mai mollato è andato sempre avanti purtroppo non aveva gli strumenti per difendersi da questo quindi oltre al talento la passione al focus bisogna strutturarsi per reggere per reggere a lungo se questo video ti è piaciuto mi raccomando solito like solito commento e solito ci vediamo alla prossima